Mario, ci sono dei film che oltre che per molti altri motivi restano nella storia direi del cinema anche per una frase, per una battuta, ne potremmo citare tantissime, ma anche questo è uno di quei casi? Ah sì, è proprio il caso di Chinatown, perché l'ultima frase che viene ripetuta per l'ultima volta nel film è Lascia perdere Jack, è Chinatown Allora, possiamo partire da questa frase per parlare degli splendidi 50 anni che compie Chinatown? Direi di sì, nel senso che per quale ragione è una frase apparentemente banale, come questa è diventata poi invece c'è una forma di sigillo che evoca un mondo di emozioni, qui è legato tutto il film è evidente che Chinatown è il simbolo di qualcos'altro, quindi diciamo è il simbolo, secondo me, alla fine è la vera forza del film, di tutto ciò che non riesce a essere diverso la vita, l'amore, il potere io direi anche una cosa in più, che potrà sembrare un po' dietrologica tutta la vita di Polanski è stata segnata profondamente dall'olocausto la madre è morta a Auschwitz, il papà è stato rinchiuso a Mauthausen, buona parte dei suoi zii sono finiti lì dentro lui si è salvato perché da bambino a un certo punto il padre ha dato una somma di denaro a dei contadini cattolici perché non nascondessero il suo film famoso sull'olocausto è il pianista, secondo me i film più belli sull'olocausto sono fatti prima e Chinatown è uno di questi, è un posto, un lager dove il destino non può essere diverso e noi chiudiamola questa cosa dicendo che la parte naturalmente inquietante ma anche molto aderente al clima di questo film che è una sorta di poi magari lo diciamo meglio ricostruzione del noir la parte inquietante di questa frase è lascia perdere Jack esattamente cioè di fronte, ci sono delle realtà immutabili di fronte alle quali non c'è niente da fare diciamo così e puoi essere soltanto, puoi avere solo una forma di scetticismo smagato per così dire sì da questo punto di vista adesso che lo dici è il film tragico per eccellenza c'è un destino che è irreparabile è un destino, esatto, la parola chiave è destino controllo il quale uno non può smettere di lottare ma nei confronti del quale non può che finire per perdere detto questo siamo in un film ambientato negli anni 30 che racconta fondamentalmente di un investigatore privato attingendo una letteratura crime molto famosa i cui autori più noti sono Dashiell Hammett e Raymond Chandler però come abbiamo avuto modo di leggere in un libro che abbiamo scritto anche io e te possiamo dirlo sì, non ci siamo presentati va bene, allora Mario Sesti, critico cinematografico io sono Massimo Sebastiani dell'ANSA il film di cui stiamo parlando ovviamente è Chinatown di Roman Polanski che compie appunto 50 anni, è uscito negli Stati Uniti nel giugno del 74 e che ha come strepitosi protagonisti non solo Jack Nicholson che è appunto l'investigatore non solo Faye Dunaway che è la fan fatale come operatrice ma soprattutto il cosiddetto patriarca che è anche il patriarca del noir John Huston che ha firmato la prima regia di quello che viene considerato il film seminale e cioè il Falcone Maltese, il mistero del Falco Sam Spade con Alfred Bogart sì, però qual è la peculiarità diciamo di questo film che lo rende per certi versi unico oltre al fatto di essere uno dei film più belli di uno degli autori più interessanti del cinema contemporaneo cioè Polanski il fatto che mette insieme due modelli che tradizionalmente sono antagonistici una parte il noir, il noir d'atmosfera che descrive fondamentalmente una società in cui i conflitti, il caos lo stress emotivo di poliziotti lo strapotere, la violenza dei gangster determinano fondamentalmente una società in preda al caos dall'altra invece c'è la costruzione d'enigma Agatha Christie cioè una storia in cui solo alla fine si scopre qual è il vero movente chi è il vero responsabile questi due modelli stanno molto raramente assieme dirò di più che nel cinema è molto difficile trovare il secondo non a caso per esempio Hitchcock che è il regista di thriller più famoso della storia del cinema ha inventato un nuovo modo in cui tutti sapevano già che era il colpevole tranne il protagonista gli spettatori sapevano benissimo qual è il responsabile tanto è vero che l'ansia ha iniziato a tentare di entrare in soccorso del protagonista perché sanno più di lui fondamentalmente è giusto dire che qui c'è la combinazione dei due però possiamo dire che in effetti perché tu hai detto solo alla fine si scioglie l'enigma però questo enigma più che rimettere in ordine le cose per così dire in realtà sembra essere inghiottito da quel buco nero che è la cupezza dell'atmosfera di un mondo dove c'è solo violenza, solo sopraffazione dove l'ingiustizia sostanzialmente prevale cioè alla fine l'elemento noir è quello veramente dominante assolutamente Massimo hai detto le parole decisive perché lì c'è un trauma forse il trauma più antico quando gli esseri umani sono apparsi sulla terra cioè la violenza più antica non so se è spoiler parlarne dopo 50 anni però in effetti non sarebbe spoiler ma lo potrebbe diventare perché avevo la curiosità di chiederti un'altra cosa ma comunque diciamo la violenza più antica il tabù più innominabile esattamente e naturalmente come tutti i buoni film poi nasce da lo scontro, la sintesi di anime completamente diverse perché il soggetto di Robert Townie che è uno dei più grandi sceneggiatori degli anni 70 e che ha vinto l'Oscar per questo film che ha vinto l'Oscar e cui addirittura Coppola si rivolse quando stava in difficoltà per il padrino per capirci quando doveva scendere una scena dialogata che si ispirò in realtà a una figura effettivamente esistente William Mulholland che dà nome a una delle due strade più famose di Los Angeles cioè Mulholland Drive insieme a Sunset Boulevard omaggiata da David Lynch forse non a caso perché se parliamo di mistero esattamente quindi è dentro il cinema nella maniera che più profonda non si può essere questo William Mulholland vale la pena spendere due righe perché in realtà era un ingegnere idraulico veniva dall'Irlanda ed è il responsabile come un po' si racconta nel film di aver spostato una grande massa d'acqua diciamo dalla Sierra Nevada fino a Los Angeles permettendo lo sviluppo di Los Angeles infatti è ritenuto uno di quelli che ha fondato Los Angeles per farlo in realtà ha rubato un sacco d'acqua a contadini che naturalmente a un certo punto innescarono una vera e propria guerra contro questa operazione e anche questo è un fantastico elemento noir perché il confine tra bene e male è confuso esatto il fatto che John Huston impersoni questa figura e che questa figura sia anche il padre di Los Angeles in qualche maniera raddoppia all'infinito diciamo tutto un reticolo simbolico molto forte naturalmente perché dicevo una sintesi perché Polanski come sappiamo Polanski alla fine degli anni 60 ebbe questa tragedia spaventosa del massacro di Manson che vide Tucinari la propria compagna allora incinta per certi versi Cenedano sta tra il 69 e poi il 77 che è il momento dell'aggressione sessuale la vita di Polanski è così piena di cose che se Polanski non fosse esistito e qualcuno facesse un film su Polanski non è possibile esattamente ho il calcio c'è il manzo sì è vero è verissimo però perché dico questo? perché a un certo punto Polanski si impuntò perché il finale del film era positivo cosa che chiunque ha visto il film sa che non è così e a un certo punto Robert Townie e Polanski litigarono in maniera così violenta stavano scrivendo in un albergo c'era un televisore acceso c'era una partita di pallacanestro è sconcertante immaginare che qualcuno scrive a Los Angeles mentre c'era una partita di pallacanestro e a un certo punto Polanski era così incavolato che prese il televisore e lo buttò dalla finestra perché Polanski dice il finale di questo film deve essere tragico il più tragico possibile e il litigio arrivò a tal punto che a un certo punto a Robert Townie fu impedito di assistere alle riprese del film stacco finisco questa storia metti 30 anni dopo in una conferenza Robert Townie sul film disse aveva ragione Polanski ecco stavo per dire questo era facile dirlo però poi siccome l'ironia delle cose della storia è sempre pazzesca di 11 nomination alla fine l'Oscar l'ha preso Robert Townie lo sceneggiatore che però voleva scrivere un finale diverso che probabilmente avrebbe dato un sapore diverso però perché ti ho detto prima non spoileriamo perché la domanda che ti volevo fare che ogni tanto vabbè ci poniamo perché parliamo di anniversari di molto tempo fa allora diciamo anche una cosa no? Chinatown è anche uno di quegli esempi di film che oggi non si fanno più per ragioni che sarebbe forse lungo spiegare tutte le con cause sono tantissime e so a quel tipo di film non si fa più allora la domanda è c'è un pubblico potenziale cioè se tu dovessi spiegare a un trentenne o a un ventenne perché Chinatown è un film così importante e perché vale la pena andarlo a vedere anche se non ha i ritmi della serie tv di culto del momento o se non ha peggio ancora i ritmi del film tratto dagli eroi della Marvel perché però è un film da cui invece anche un ventenne o un trentenne possono ricavare molto dalla visione beh un motivo credo che l'abbiamo detto cioè alla base del film c'è questo senso di irreparabilità della vita che fa parte del modo in cui inevitabilmente uno diventa grande il fatto di capire questa cosa qui e io immagino che così come quando noi l'abbiamo visto da adolescenti e così come l'hanno visto poi da adolescenti altri come lo vedono da adulti questa è una cosa che in qualche maniera ha un'attrazione oscura è un tipo di conoscenza con la quale tutti dobbiamo avere a che fare che in qualche maniera ci costringe a prendere posizione dall'altra c'è comunque una manifattura come scrive David Thompson che è un critico inglese che vive in America che tra l'altro a un certo punto ha scritto un romanzo in cui mette insieme tanti protagonisti di tutti i film come se fossero messi insieme e immagina dandogli una vita vera e immagina che Jack Nicholson sia figlio di una prostituta cinese morta durante un terremoto è una cosa abbastanza geniale e la musica di Jerry Goldsmith è fantastica è di un romanticismo scintillante i costumi le scenografie di Richard Silbert innanzitutto c'è un cinema di qualità veramente diciamo di eccellenza come si direbbe oggi di eccellenza artigianale diciamo così ma ti dirò di più tu l'hai nominato in realtà all'inizio devono essere tre film il secondo è stato fatto con la regia di Jack Nicholson il grande Jack ed è stata una tale delusione che come scrive lo stesso Thompson nessuno ha pensato di fare il terzo ma adesso così come accade che spesso le serie prendono storie di cinema oppure dei film per fare una serie quello sarebbe l'ideale per fare una serie lanciamo questa è un'invocazione più che un'idea è un'invocazione qualcuno abbia la forza il coraggio un'invocazione un monico non so come dire per fare una serie Chinatown poi un'altra cosa che mi viene in mente è veramente difficile capire perché un regista è grande per esempio Polanski è un grande regista ma non è perché ha un uso particolare del montaggio o degli stili di illuminazione qui si vede proprio quanto è grande perché c'è una figura iconica che si ripete quella dell'occhio infranto a un certo punto in una delle frasi più belle c'è anche una storia d'amore bellissima tra Jack Nicholson e Faye Dunaway Jack Nicholson dice a Faye Dunaway c'è una macchia nel tuo occhio there is a flow in your eye e questa roba qui si ripete perché la figura dell'occhiale infranto ritrovato nella piscina del faro rotto a un certo punto da Jack Nicholson per consentire al protagonista di inseguirlo è il finale dove c'è un colpo di pistola non diciamo doveva finire ma sì c'è un colpo di pistola allora l'idea che una grande storia possa legare il suo mistero anche a una forma simbolica legata semplicemente alla distribuzione di figure di oggetti è una maniera straordinariamente elegante di legare un stile personale a una regia e comunque tutte queste cose che tu hai messo insieme giustissime alla fine danno come risultato perché mentre tu dicevi è difficile spiegare perché il regista è grande a meno che non ci abbia che ne so un modo di girare che è solo suo che a un certo punto è stato identificato nel caso di Polanski non è quello però quello che si può dire è quello che dentro un film e poi anche dopo quando si è uscito dalla sala quando si andava nelle sale aspettando il titolo di un film che usciva ti rimane in sospensione per parecchio tempo questa cosa qui che è fatta di una materia che non si sa qual è impalpabile è una materia impalpabile è quello che Polanski poi anche altri autori per altri film ma è certamente quello che Polanski che con l'ambiguità e con il mistero è uno di quelli che ci ha saputo come dire giocare anche in modo pericoloso tantissimo però ha lasciato se uno dovesse dire che cosa c'è molto in Chinatown è anche questo anche questo senso di minaccia costante un senso di minaccia costante sì il senso di minaccia c'è un'apparenza apparentemente appunto apparenza sontuosa smaltata smaltata io credo che questo che tu dici sia la cartina di Tornasole e la musica quando il film riesce a liberare delle sensazioni così profonde e così dense come quelle che tu hai descritto la musica è una specie di cartina moschicida cioè sappicce con tutte lì io tutte le volte che sento il tema di Chinatown riprovo quel tipo di sensazioni quasi allo stesso livello no? certo questo vale sì certo è chiaro se tu pensi al tema di Lara o l'esorcista che ne so i primi due che mi vengono in mente esattamente è pazzesco sì perché l'esorcista c'è ancora strizza dopo esattamente è il tema di Lara ti ricordo di sempre allora poi come accade nei capolavori tutto tutto sembra perfetto anche anche la piccola parte che fa Polanski è perfetta anche perché è una piccola parte che fa un gesto che è determinante perché segna letteralmente tutto il film è certo perché taglia una narice di Jack Nicholson il quale tra l'altro durante le riprese aveva una paura fottuta di tutto questo questo mi serve per introdurre l'ultima cosa a meno che tu non ci abbia altro da dire cioè dobbiamo dedicare due minuti a Jack Nicholson quale altro attore se non un grandissimo attore accetta di recitare praticamente tutto il film con una fasciatura vistosissima che sostanzialmente gli toglie un pezzo di espressione in qualche modo no? Sì Jack Nicholson è quasi un coautore per certi versi primo perché fu lui a chiamare Polanski ricordiamo tra parentesi che Jack Nicholson prestò anche la casa a Polanski quando Polanski poi fece quell'atto di violenza sessuale per cui viene tuttora perseguitato forse anche maggiormente di quanto fosse stato all'epoca e poi soprattutto perché Jack Nicholson è famoso per questa specie di ghigno di risata no? e tutta la sua forza come attore ma anche il senso del film sta nel trascolorare di questo ghigno dal sarcasmo alla tragedia qui è perfetto no? poi lui lo amplificherà diciamo come una specie di cosa fino a Shining però sì sì è vero qui però c'è un equilibrio stabile e quindi inquietante esatto e poi c'è un attore ecco anche qui come si fa a dire che è un attore grande il suo sorriso no? lo usa per due stati d'animo che sono uno l'opposto dell'altro no? e quindi appunto come si fa appunto la grandezza degli attori sta proprio quella di legare la propria apparenza il controllo della propria apparenza ad esprimere poi una profondità varietà e interesse di senso completamente diversi sì il grande attore vabbè mi permetto un piccolissimo aneddoto questo mi fa venire in mente a Cannes una conferenza stampa di non so più quale film lui entra c'è un applauso dei giornalisti lunghissimo finisce l'applauso c'è un pochino di silenzio e poi lui dice la cosa più banale del mondo però detta da Jack Nicholson cioè dice thank you very much un po' sorridendo mi l'hai fatto venire in mente perché quel gigno ed è una cosa banalissima ma in tanti abbiamo pensato adesso ci uccide cioè in realtà è il contrario di grazie molte io credo che Jack Nicholson sia una delle persone più spiritose del mondo di recente ho letto una lunga intervista ad Angelica Houston che lui ha preso in giro per quasi 20 anni nel senso che sono stati insieme ma lui l'ha tradita in continuazione e dopo tanti anni che siano lasciati gli ha regalato un braccialetto di perle con questo biglietto ecco le perle diciamo che hai dato i tuoi porci bellissimo un gesto di autoironia unico direi che possiamo chiudere su questo va bene allora ringraziamo Mario Sesti e ci vediamo con il prossimo anniversario assolutamente ciao a tutti grazie 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 grazie